Attenzione! Questo video, non mira ad offendere nessuno, è stato fatto per puro scopo goliardico. Quindi godetevi questa reaction per come è stata pensata. Un semplice video, come si è sempre fatto qui su YouTube. PS. Non fate i cerebrolesi che andate a commentare negativamente il video di Dario, perché non ho bisogno di una fanbase di rincoglioniti. Bravo Dario! Bravissimo! Grande! Grande! Hai fatto un video nuovo! Siamo molto contenti di questo. Ragazzi, nostro fratello Dario Scala, finalmente, dopo due settimane di attesa, ha deciso di portarci la parte 2. La parte 2 del declino, della morte, del brand di carte più potente dopo Pokémon, Magic, One Piece. Penso attualmente anche l'Orkana, Force of Will, Dragon Ball, Digimon. Cioè, siamo proprio alla frutta, ragazzi. Siamo alla frutta, stiamo per fallire e dobbiamo tutti cambiare Trading Card Game. Però, ovviamente, visto che ancora possiamo tirare avanti un altro pezzettino, se volete acquistare qualsiasi roba a tema Yu-Gi, o anche di qualsiasi altro Trading Card Game, se Yu-Gi non vi piace, trovate tutto quello che vi serve su Fantasia Store. Il miglior negozio online per vivere una vita sana e tranquilla. Quindi, ovviamente, se volete supportarmi e avere un piccolo sconto, trovate il mio referral link e il codice sconto sempre qua sotto. Stessa cosa, ragazzi, per Jack Store. Il miglior negozio, ragazzi, per l'acquisto di prodotto coreano e giapponese. Yu-Gi e One Piece, nel caso Yu-Gi fallisca, almeno potete acquistare qualcos'altro e me supportate comunque. Stessa cosa, anche per lui, referral link e codice sconto sempre qua sotto. Detto questo, io un attimo leggerei una piccola cosa che ci siamo scritti io e Dario, ieri, perché aveva fatto un post-community. Diciamo che tutto parte da questo Rick154 che scrive Seconda parte, non so cosa sperare. La certezza è una, il Simo ci regalerà altro content. Lui risponde, sono curioso di vedere come risponderanno alcuni utenti. Vedremo, speriamo bene. Arrivo io, gli scrivo, Simo non ha intenzione di farla, la farò io. E lui mi risponde, beh, spero che almeno guardi il video e mi faccia sapere cosa ne pensa. Figurati se mi interessa la reaction. Sì, ma se faccio la reaction vuol dire che il video lo guardo. E quindi è tutta una cosa strana. Ma vabbè. Bene, Erens, allora tu cosa ne pensi di questo video? Perché comunque ha lo stesso titolo e è solo parte 2. Non ne penso, non lo so, dobbiamo vederlo. Ma spero che ci dia delle scuse per la frase peggiore che una persona possa dire nella vita. Ovvero che Magic è il gioco migliore di carte del mondo. Cioè, ma che cazzo gli dici da? Ma come? Gli rispuso per quello e io ti perdono tutte le altre cappellate che hai detto nella tua modesta opinione personale. Che è la tua opinione, non la potrò mai modificare, non voglio neanche farla. Però vorremmo farti capire che... Yu-Gi-Oh! è migliore in Magic. Non è coerente con la realtà. Detto questo, andiamo perché il video è uscito da poco, da un quarto d'ora e sono curiosissimo di sapere la sua opinione. Ah, se non hai capito il senso di questa clip, non ti sei perso nulla. Non è vero, non è vero. Noi siamo sul pezzo, sappiamo tutto. Dai. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Non pensavo di fare un altro video in renta a Yu-Gi-Oh! Ma dopo quanto è accaduto lo ritengo molto interessante, se non addirittura necessario. Ed è per questo che oggi, dopo aver ottenuto un dottorato presso la Simatics Academy, sono pronto a raccontarvi l'intera ascesa ed equino di Yu-Gi-Oh! Chiedo scudo. Ricominciamo! Riscopriamo tutta la storia! Ripartiamo, porco d***o! Ripartiamo, ripartiamo. È già la prima bestemmia. Se sei un attuale giocatore, ci tengo a dirti che questo video non vuole analizzare tecnicamente il gioco, né tantomeno discutere sul mondo competitivo... E allora sto video non serve da un cazzo! Il video vuole avere l'ascesa e il successivo declino del gioco nella cultura di massa. Se nonostante queste premesse hai ancora voglia di rompere i c***i, potresti avere qualche problema. Allora, ascesa e declino nella cultura di massa. Già ha messo le mani avanti, ma è da capire. Se ancora si riattacca il fatto che... Oh mio Dio, gli Artwork moderni che merda! Non è una soluzione, ma capiamo. Come si è diffuso Yu-Gi-Oh! in Italia e nel mondo? Come funziona Yu-Gi-Oh! all'interno di Konami? Aia, aia, aia! Ti rispondo io, ti rispondo io, perché allora tu vuoi fare la domanda di massa? Bene, c'è la persona perfetta. Ho lavorato tre anni in un'azienda che vende alle masse e che lavora con Konami. Cosa cazzo vuoi dirmi? Sentiamo che non vado bene? Figa, ci lavoravo da dietro. Ok? E ti posso dire solamente una cosa. Che da quando c'è stato il Covid nel 2020, sto gioco ha venduto il triplo! I soldi! I soldi, cavolo! Il c***o di declino! Il declino c'è stato nel 2017, quando hanno fatto la master rule del c***o, dove dovevi giocare i Link. Soprattutto, qual è la causa di questa spaccatura enorme nel gioco e tra il pubblico, anche a distanza di pochi anni? Per comprendere al meglio la diffusione di Yu-Gi-Oh! In occidente, è necessario fare un salto nel Giappone del 1945. Siamo un po' indietro, nel senso. Io memo sul fatto che la Konami ci odia per il fatto di Nagasaki e Hiroshima. Però, nel senso, un po' tumaccio. No, no, capiamo, secondo me siamo andati... No, voglio, voglio... Quando hai detto 1900, ok, dirà 1996, più o meno. Sì, anch'io penso... A 5, 45... Vabbè, 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 capiamo. ...dalla guerra del Pacifico a pezzi a livello economico, sociale e culturale. Infatti al tempo, per quanto il paese si fosse aperto da pochi anni alla globalizzazione, aveva sbagliato fazione, sporcandosi la reputazione durante gli anni 30 e 40 del primo novecento. Per risolvere il disastro economico, negli anni 50 il Giappone entrò nell'era della crescita ad alta velocità, che puntava tutto sulla tecnologia. Iniziarono a produrre lavatrici, frigoriferi e televisori che si aggiunsero al mobilio delle case, prima giapponesi e poi di tutto il mondo. O per meglio dire... Io vorrei capire da come passiamo al 45 e crescita economica al... Yu-Gi-Oh è una merda, sta perdendo persone, ma va bene. Chi poteva permettersela? Il governo, con l'aiuto degli Stati Uniti, ha messo su colossi economici come Toyota e Sony, che hanno reso economicamente grande il Giappone, ma nel frattempo lo hanno avvelenato in nome dello sviluppo industriale. Ricordiamo i gravissimi scandali ambientali avvenuti negli anni 70 che meritano... Una parentesi a parte. Oltre all'industria tecnologica, bisognava trovare un altro mercato che permettesse di guadagnare... Comunque ragazzi, maglietta di Antoshou perché è video di Ising e quindi bisogna per forza portarla. Questo nel dopoguerra il Giappone inizia una produzione massiva di macchine Pacinco, un gioco d'azzardo molto famoso nel paese del sollevante. Questo crea una sorta di economia circolare in cui il povero operaio, finito il suo turno alla Toyota, andava a buttare la paga sulle macchinette, restituendo così parte del salario allo Stato che poteva continuare la sua crescita ad alta velocità. Se l'industria degli elettrodomestici ha risollevato l'economia lipponica, quella del gioco d'azzardo arricchito il Giappone e la Yakuza alle spalle del popolo, a risollevare la reputazione dello Stato del sollevante fu l'industria dell'intrattenimento. Grazie alla creazione e soprattutto all'esportazione di film, manga, anime e videogiochi. Da quanto detto finora, capiamo come il Giappone abbia puntato per decenni tutto sulla produzione interna e sull'esportazione, che sia di una lavatrice, un manga o addirittura uno stile di vita. Tra le aziende protagoniste di questa crescita economica e reputazionale incredibile, vi è l'orme celebre Konami. Konami fu fondata nel 1969 a Osaka da Kagemasa Kozuki. Inizialmente l'azienda si occupava della riparazione e noleggio di Jukebox, ma nel 1973... Va bene, ma non ci interessa, cioè, sta facendo un pippone incredibile di cose che non c'entrano niente col gioco. No, no, vabbè, sta parlando di Konami, quindi ci sta. No, siamo a tre minuti e ancora non mi ha spiegato la questione del gioco, perché è una cosa di figuriferi interessante. No, interessantissima, però nel senso i punti di cui vuole parlare sono molto ampi, e meno di sette minuti, un po' così. In cambio settore, iniziando a produrre cabinati per videogiochi arcade. Consenno di poi, a livello imprenditoriale, fu la scelta più giusta che Kozuki potesse fare. Nel 1984, appena 11 anni dopo il cambio di mercato, venne quotata la borsa di Tokyo. Stop, probabilmente alcuni di voi staranno chiedendo perché vi sto raccontando tutto questo. Sì, abbastanza. Dovete sapere che Konami, da azienda familiare, cioè gestita da Kozuki, passò a corporate governance, cioè azienda sia quotata in borsa che gestita da Kozuki e un gruppo a lui vicino. Questo comportò enormi cambiamenti nelle scelte di Konami, ed è un fattore che tuttora, a distanza di 40 anni, è determinante anche per Yu-Gi-Oh. Sotto la guida di Kagemasa Kozuki, Konami diventò un colosso internazionale grazie alla produzione e all'esportazione di videogiochi come Castlevania, Metal Gear, Silent Hill, PES e infine l'acquisizione del marchio Yu-Gi-Oh. Infatti Yu-Gi-Oh ha un passato indipendente, se così vogliamo dire. Ma se volete approfondire quell'aspetto vi invito a recuperare... Indipendente, nel senso Bandai... No, no, questo ragazzi non dovete vederlo perché... No, no. Non è proprio corretto. Tornando all'acquisizione da parte di Konami. L'azienda acquistò i diritti per il franchise di Yu-Gi-Oh nel 1996, iniziando a produrre carte e videogiochi basati sulla serie. Vi ricordate di quando inizio video vi ho detto che le aziende giapponesi avevano manie espansionistiche? Bene, Yu-Gi-Oh nasce come prodotto originale giapponese. L'intenzione è quindi quella di chiudere le porte all'importazione di prodotti occidentali, banalmente nel gioco di carte Magic, esportare nel mondo un prodotto giapponese per competere con Magic e tutti i possibili giochi di carte esistenti. Yu-Gi-Oh rappresenta per Konami l'ennesimo strumento, anche se abbastanza potente, per conquistare il mondo. Se in un paesino del centro... Dopo che l'avevano fatto gli americani, volevano tornare loro in grande stile. È la loro bomba, mettiamola così. Beh, io in tutto questo vorrei dire una cosina. Cosa? Mi dica. Quindi per lui Pokémon sono una cazzata. Ovvio, perché Pokémon che è nato prima con le carte che avevano il contratto con la Wizard non era una mira espansionistica. No, no, ok. Diciamo che Yu-Gi stava seguendo il trend che aveva già delineato Pokémon. Nel senso, avevano come idea copiato Magic, tranne il modo di giocare, però proprio a livello di carte, e come idea di distribuzione era la stessa di Pokémon, perché c'aveva l'anime, c'aveva il videogioco, c'aveva le carte. Stessa cosa. C'aveva il manga, ovviamente. C'è un bambino che legge manga, guarda anime, gioca Yu-Gi-Oh! È perché le aziende nipponiche sono state bravissime a esportare tale cultura. A loro interessa esportare. Pensate che Konami dice chiaramente questo anche nei suoi report per gli azionisti. Infatti, come vi raccontavo a inizio video, dal 1984 l'azienda è quotata dalla borsa di Tokyo. Dal 2002 addirittura anche dalla borsa di New York. Quindi, per forza di cosa, deve tener conto di quello che vogliono gli azionisti, cioè più soldi possibili. Riassumendo, più esporti, più soldi fai. Per questo Yu-Gi-Oh! viene inserito all'interno di un segmento aziendale chiamato Digital Entertainment, che si occupa di gestire tutti i titoli videoludici di Konami. Capiamo quindi come Yu-Gi-Oh! sia una parte di un segmento più grande, che insieme ad altri segmenti altrettanto più grandi, come Result Machine, compone Konami. Ed è proprio sul settore... Wow, si. Konami ha vari prodotti, rispetto a The Pokémon Company che ha solo Pokémon. Non è fantascientifico. ... che voglio concentrarmi. Va bene. Skippiamo. Il fondatore Kozuki lasciò il ruolo di direttore nel 2012. Dopo una breve parentesi con suo figlio alla guida dell'azienda, le redini passarono a Hideki Ayakawa, che dal 2014 al 2018 ha preso delle decisioni molto discutibili per gli appassionati di videogiochi e di Yu-Gi-Oh! ma molto apprezzate dagli azionisti. Infatti Ayakawa decise di ridurre gli investimenti nei giochi per console, più costosi e rischiosi, preferendo invece i giochi mobile, ma soprattutto le macchine Pacinco e slot machine, che si trovano non solo in tutto il Giappone, ma addirittura in tutto il mondo. Secondo me è doveroso raccontare tutto questo, perché effettivamente Yu-Gi-Oh! è parte di una realtà molto più grande e complessa. Il gioco di carte rappresenta solo una rotella di un ingranaggio enorme. E se questa rotella si eruginisce, beh, Konami si dispiace, ma risolve il problema buttandosi sul prossimo mercato da saturare, con applausi da parte degli azionisti. Mi? Nel senso, quando hai un brand strutturato in tutto il mondo, con miliardi di giocatori... miliardi, no, milioni di giocatori, ci pensi due volte se cannare un progetto così grosso, perché di base, per quanto sia piccolo rispetto al totale, è molto influente, perché, ragazzi, parliamoci chiaro, più le persone conoscono Konami, anche per vie traverse, meglio è. Ed è proprio su quest'ultimi che voglio concentrarmi, perché sempre meno persone si affacciano al mondo di Yu-Gi-Oh! Se 10-15 anni fa avere delle carte di Yu-Gi-Oh! a casa era la norma, adesso tra gli adolescenti è molto meno diffuso e in quest'ultima parte di video vi dirò il perché. Inizialmente Konami aveva trovato una combo molto efficace, l'anime come strumento promozionale per pubblicizzare le carte da gioco, i ragazzini guardavano la tv, guardavano i loro eroi giocare a Yu-Gi-Oh! e il pomeriggio imbandivano dei deck per emularli. Questo sistema, per quanto geniale nei primi anni 2000, col tempo è diventato un problema, in quanto ha portato migliaia di giocatori medi ad abbandonare il gioco. Ma non è vero! Che cazzo stai dicendo? Ma che cavolo stai dicendo? Se tu hai smesso, sono cazzi tuoi! E' l'unica risposta che ti possiamo dare! Hai mai visto Zexal? Hai mai visto ArcV? Hanno fatto anche Vrains e i bambini ci erano attaccati perché i bambini con i link e con i pendoli che arrivavano, voglio il mazzo di Yu-Gi-Oh! ce li vedevo cazzo! Ah no no, a parte tutto che, allora, tu andavi al mare durante il periodo Zexal, i ragazzini erano così, ah, 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 carta numero, carta numero, devo finire il mio cazzo di set delle carte numero! Cioè, nel senso, l'anime ha attirato sempre tanto, soprattutto fino a Zexal tantissimo, poi ovviamente con le ultime due, per quanto le serie siano belle, un pochino meno. Ma quello dipende anche da Mediaset che non ha comprato i diritti per mandarlo in televisione, dipende anche dalla fascia oraria che venivano mandati, cioè venivano messi su K2 e K2 attualmente, cioè attualmente, anche dieci anni fa, non aveva più questo grosso appeal come ce l'aveva all'epoca. Ok, Emily, i personaggi della prima serie perché ti piace la prima serie, la seconda non ti piace? Boh, nel senso, e quindi abbandoni il gioco perché finisce l'anime? Un po' così, cioè, io te lo dico da influencer di Yu-Gi-Oh! conosco tanta gente, veramente tanta, soprattutto in questo settore, e la gente, cioè, entrava con l'anime e poi andava sul competitivo, continuava a giocare come gli pareva, però nel senso, non è che finisce l'anime e finisce il tuo amore per il gioco, assolutamente. Qui che lascio la parola a un mio caro amico che conosce molto bene la cultura giapponese e che sono sicuro saprà spiegarvi meglio di me l'argomento. Vi presento Shinichi. Ciao a tutti, grazie mille Dario per avere il mio spazio. Tocca a blastar pure a lui. Cioè, allora, Dario, Dario, se tu mi scrivevi su Instagram, mi dicevi, guarda, vorrei fare un altro video di Yu-Gi. Noi non ci conosciamo, però, visto che tu sei molto appassionato e conosci molto bene il gioco, secondo me potrebbe uscire una roba carina. Io ti dicevo, sì, godo, però, ok, sentiamo l'amico. Io sono Shinichi e sono autore del manga Shaman, edito da Jungo Comics. Sono qui per spiegarvi il fenomeno Yu-Gi-Oh in relazione al mercato giapponese, quindi anime, manga e collezionismo. Anzitutto dobbiamo capire che il mercato giapponese è diverso da quello occidentale. I giapponesi sono dei capitalisti, per riassumere è come un enorme... No, gli americani non sono dei capitalisti, assolutamente. ...in cui non si ha tanto la concezione di prodotti... Sì, ma i giapponesi di più. ...ma un prodotto commerciale. Consideriamo quindi che il contesto in cui ci muoviamo è diverso da quello di giochi come Magic. Ora, mentre Magic ha alle spalle un'azienda specializzata esclusivamente in giochi da tavolo, e già gestire un gioco da tavolo è estremamente difficoltoso tra regole, lore, eccetera, 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 immaginate un prodotto come Yu-Gi-Oh che cerca di conciliare case di innovazione, riviste, quindi le serializzazioni del manga, e soprattutto gioco di carte collezionabili. Quindi le aziende che lo vanno a produrre, che lo vanno a equilibrare. Sì, sì, allora, ha totalmente ignorato la questione Pokémon, dove praticamente è strutturata come Yu-Gi-Oh, e... Ok, cioè, posso capire, vabbè, c'è Pokémon si occupa solo di Pokémon, The Pokémon Company si occupa solo di Pokémon, Konami si occupa di reparto Yu-Gi-Oh, poi ha Metal Gear Solid e tutte queste altre menate qua. Poi il manga era disegnato da Kazuki Takashi, cioè... Sì, sì. Magari un minimo di storie anche aziendali, io me la sono studiata in generale anche per i videogiochi, ti posso dire che sì, Konami è ultra capitalista, tutto quello che vuoi, abbiamo visto anche tutti gli errori che ha fatto con i videogiochi, e così, però per il discorso Yu-Gi-Oh qui non si sta trovando il punto, perché tu mi stai dicendo che in Giappone il mercato è diverso, lo sappiamo che in Giappone il mercato è diverso, le bustine costano 150 yen, non ci trovi manco una folla assicurata a momenti, ma è un mondo a parte lo CG, ma di tutti i giochi di carte, ed eccezione ovviamente di Magic. Parliamoci chiaro. Non è un punto per dire che da noi è fallito, tu mi devi analizzare gli anni che mi dici, no, da noi è andato in decadenza, mi vai a vedere i numeri della gente che andava a giocare in generale delle vendite delle prodotte, magicamente vedi che il prodotto ha venduto tantissimo. Sta nella sua complessità come prodotto, e soprattutto nel fatto che la storia e il trading car game interdipendono tra di loro, mentre la lord di Magic non è vero. Cos'è che ha detto, scusa? Che la storia e il trading car game sono collegate tra di loro, ma non è vero. Ci sta che quando fai il set nuovo, ovviamente, li parlo in passato, perché attualmente non è più così, c'erano delle cose che interdipendevano, nel senso uscivano determinate carte nell'anime, comparivano anche nel set, ma non è che i set vivevano solo di questo, c'erano anche quelle come attualmente quando fai un set di Yu-Gi-Oh! tiri fuori altre carte che sono comparse nell'anime. Adesso gli faccio un'analisi io, perché questo è il classico commento di persona che ha giocato randomicamente a Yu-Gi-Oh! ovviamente guardando l'anime del genere, e si rispecchiava nelle carte dell'anime che ritrovava dentro. Però c'è un punto che noi tutti, la piccolini, non abbiamo mai vissuto effettivamente, perché eravamo piccoli. Mentre i player lo hanno vissuto, e lì la Konami sta dovuto fare una scelta molto pesante. Il meta? Com'era? Tatico da anni. Le uscite di GX piacevano ai bambini, perché c'erano gli eroi elementali di Jaden, gli eroi del destino di quello, le bestie cristallo. Sto riprendendo il discorso di Fierixie, adesso mi direte, facendo un copia in colla. Però il discorso è vero, nel senso, in quel periodo, la Konami ha dovuto inglobare una fetta di pubblico maggiore con l'anime. GX è un anime bellissimo, il manga è una figata pazzesca, le carte là sopra sono fichissime, e con le ultime espansioni, ovvero dopo che hanno completato il ciclo che volevano, ovvero prendere le fette di giocatori più ampie e far modificare il meta con Phantom Darkness e Light of Destruction e Gladiator Assault prima, perché Gladiator Assault è stato quello che ha dato lo stacco nel dire, sì, ci sono le carte dell'anime, quelle belle che vi piacciono, però per i giocatori dobbiamo fare qualcosa perché il meta è uguale da sei anni. C'era Perfect Circle, c'era Cyber Drago, c'era Chaos, quella roba lì, c'era God, quella roba che andava avanti da anni e non andava bene. Dai primi set fino ai set attuali, il set delle carte è composto da carte anime, ovviamente, anche adesso le ritirano fuori, da carte normali per riempire il set, poi anche carte forti per il meta, ma è stato così sempre. Intacca il gioco di carte, Yu-Gi-Oh! lo fa continuamente, perché un anime così come un manga ha delle necessità narrative, personaggi nuovi, storie nuove, ambientazioni nuove, e soprattutto delle regole nuove, continuamente, continuamente. Ogni stagione deve avere delle meccaniche nuove. Questa cosa va bene per la storia, ma non va bene per il gioco di carte. Intendiamoci, il problema è esclusivamente del trading card game, perché alla fine con una storia ci puoi fare quello che ti pare. E soprattutto esiste una cosa chiamata sospensione dell'incredulità, ovvero piccoli elementi della storia che non tornano, ma che tanto il lettore accetta perché è una storia di fantasia, funziona così, ma con un trading card game rischi, non puoi farlo, perché rischi di distruggere gli equilibri di un gioco di carte collezionabili che ha regole ben precise. Io vorrei dire una cosa, questa cosa compare da la prima stagione, la prima stagione, cioè non esistevano regole, perché non si sapevano effettivamente come strutturare le regole del gioco, se aveva 2000 life points e tutto il resto, cioè, adesso come adesso, le carte seguono i loro effetti, basta. Puoi farlo una volta, puoi farlo due, puoi farlo tre, ma a lungo andare questa cosa fa esplodere il gioco. Guarda, è una persona che non ha mai giocato a Yugi, palese. Cioè lui può fare manga, può fare quello che vuole nella vita, ma non ha mai giocato a Yugi, quindi è inutile che parla di un argomento che non conosce. Perde solidità. Il problema di Yu-Gi-Oh! sta proprio in questo. Insomma, non è per niente facile conciliare l'anime con il gioco di carte collezionabili. E a lungo andare questo ha... Cazzata abnorme. Cazzata abnorme. The Infinite Forbidden, per attirare i giocatori anche un po' più vecchi, un po' più random, più casual, cos'è che hanno fatto? Anzi, da Lede l'hanno fatta, sta roba. Tutti i supporti al mago nero, eccetera, per la roba legacy. Ma no, ma che cazzo diciamo? Sta per uscire uno di Turdek, bianco, occhi, blu, più fichi della terra? Ma no, ma chi se ne frega dell'anime, vero, vero? Ma qua non stiamo parlando della questione anime, della questione competitivo, sette nuovi. No, no, sai dice, non parliamo di quello, ma state parlando di quello, quindi state zitti. No, no, stanno parlando del fatto che in passato c'era l'anime e c'era il gioco di carte, non riuscite a cozzarli insieme? Cosa ovviamente sbagliatissima, perché si è sempre fatto e anche discretamente bene. Il gioco di Yu-Gi-Oh, chiariamoci, il gioco non fa schifo, il problema è che non è più solido e questi problemi l'industria giapponese li conosce molto bene. Fateci caso, l'ultima serie di Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh Rush, è una serie che non va a intaccare le regole di Yu-Gi-Oh, perché va a costituire un altro gioco parallelo simile a Yu-Gi-Oh, ma che ha regole tutte sue. Ma eh, eh, no, 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 questa persona non sa di cosa sta parlando. Rush Duel si basa ovviamente sul gioco di carte di Rush Duel. Tu mi potresti fare questo discorso con, eh, ma allora quell'anime influenza quel gioco di carte e che non cozzano bene insieme perché rovinano le regole e tutte quelle menate lì. Cioè non puoi fare l'anime di Rush Duel con Yu-Gi-Oh, è come dire, eh, io ho visto l'anime di Dragon Ball, però sai, non ha intaccato l'anime di Pokémon, il gioco di carte di Pokémon. Ma cazzo, sono due cose completamente differenti. Ma io... Ragazzi, questo video lo prendete e non lo guardate. Facile, nel senso non... Non... Una cosa doveva fare, chiedere scusa, perché aveva detto cose sbagliate. E questo video è sbagliato. Ma questo è il problema che ci sta adesso. Non vuoi capire che hai detto delle cazzate? P***e! Allora, va bene, è il 2024, siete tutti fragilini come la merda, perché avete rotto i coglioni, pensate che la vostra libertà di pensiero sia opinione, punto e basta, quando non sapete un cazzo di niente. Allora, ragazzi... Perché non sapete niente di sta roba. Ammutoritevi, io non vado a parlare di rap quando ascolto metal. Accetto l'opinione di entrambi i ragazzi. Ma io ho collaborato con Konami, nel senso, ho lavorato con altre aziende, e tratto Yugi da 20 anni. Capite che la mia opinione rispetto alla sua vale un pochino di più. Mettiamola così, eh. Non sono un giocatore competitivo alla Muselli. Però, nel senso, Yugi lo mastico abbastanza bene in tutte le sue sfaccettature. E se io dico che il video è un po'... Lui non mi se può offendere e dire Eh, no, ma che cavolo stai dicendo. Perché? Nel senso, lo mastico più da te, Yugi. Proprio grazie alla sua complessità. E soprattutto, consideriamo sempre che la potenza di Yugi sta nell'anime. Insomma. Assolutamente. No! No! La dovete smettere voi! Taku del cazzo! Di prendere tutto come se fosse il vostro anime preferito! Vi vedo in fiera! Vi vedevo! Non capite una scelta di figurine! Non capite un cazzo! Ragazzi, quanti guardano l'anime di... Potete essere quel cazzo che volete! Sopra di me, sulla cultura di Masashi Kishimoto e di sto cazzo! Lì non so una scelta di tavole manga! Ma non permettetevi di parlare delle estensioni che non c'entrano un cazzo con il vostro mondo e di cui la vostra opinione non serve! Il punto centrale di Yu-Gi-Oh! Sono le carte! Sono le carte! Attualmente. All'inizio era l'anime, dall'anime si sono strutturate le carte. Come per Pokémon. È partito con una cosa, adesso sono le carte, punto centrale. Pokémon riesce a fare quello che fa perché si pubblicizza. Fa collaborazioni con tutto. trovate al supermercato le merendine brandizzate Pokémon. Yu-Gi-Oh! Questo non lo fa. La soluzione è fare come hanno fatto tipo sei mesi fa. Collab con Mac. Facile. Tutti conoscono MacDonald, tutti conoscono Hello Kitty e fai una bella collaborazione! E tutti vengono a conoscenza di Yu-Gi-Oh! Dai più piccoli ai più grandi, dai maschi alle femmine. Capito? Ragazzi! Questi, questi, queste cose terribili. Ragazzi, queste cose le ha viste pure la mia fidanzata. E le piacciono. Lei non segue Yu-Gi, però le piacciono. Sono le collaborazioni che ti permettono di fare questo. È come quando fai un video su YouTube. Se fai una collaborazione con uno più grande, o con uno famoso quanto te, vi spostate il pubblico. Incredibile! Cosa è fantascientifica! Va bene. Questo è tutto, io vi ringrazio ancora per avermi ascoltato. Grazie ancora a Dario per avermi ospitato. E quando volete, Shaman vi aspetta. Tendo conto che le critiche, in gran parte tossiche, siano arrivate da un pubblico molto... Pubblico! Molto piccolo! Molto piccolo! Un pubblico piccolo che ti ha fatto fare il maggior numero di visualizzazioni sul tuo canale, probabilmente. Sì, sì, un pubblico... Che poi, allora, ci sono tipo le 30k di Fieric, le mie, quelle di Bash, cioè nel senso, nessuno nella community di Yu-Gi, nessuno, è d'accordo con le tue idee. ...è rumoroso. Un pubblico che non è neanche mio, ma di C-Matrix e della community di Yu-Gi in generale. Questo mi fa capire come si tratti di una bolla di utenti molto concentrata sul gioco, e che ignora il fenomeno culturale e sociale che il gioco ha creato negli ultimi vent'anni. Mi viene da pensare che... No, lo stai ignorando tu. No, lo stai ignorando tu. Perché sta così, guarda le cose sue e le sue community... Esatto. ...comunity molto annoiata, che ha trovato occasione per ravvivarsi e scatenarsi aprendo una guerra che dal mio punto di vista non è mai esistita. Sono stato accusato di minacciare, sono stato accusato di attaccare la community e il gioco, anche se in realtà non ho mai fatto tutto questo. Nonostante ciò ho apprezzato le poche critiche costruttive che sono arrivate, ho ammesso fin dal principio che il contenuto potesse avere delle mancanze, anche se ciò non giustifica minimamente il vostro comportamento. No, ovviamente se c'è qualcuno che ti ha dato del figlio di puttana, è ovviamente quello scorretto. Il contenuto è sbagliato, anche questo? Ovvio. Per questo che ho lavorato alla creazione di questa seconda parte è sicuramente più tecnica e meno sentimentale rispetto alla prima. No, sbagliato. In questo video chiudo, spero per sempre, questa parentesi. Vi ringrazio per la visione e vi invito a iscrivervi. Non ha spiegato nessuno di questi tre punti. Come si è diffuso in Italia? Non l'ha spiegato. Nel senso, la versione del capitalismo volevano conquistare l'America, i giapponesi, non è la diffusione di Yu-Gi-Oh in Italia, va benissimo. Come funziona Yu-Gi-Oh all'interno di Konami? Sì, ha risposto più o meno, ha detto che... E funziona come un prodotto tipico di qualsiasi azienda. Ok, qual è la causa della spaccatura? Non ha risposto. Ah, il fatto che non è più correlato con l'anime. Prima, nel vecchio video, gli artwork fanno schifo, adesso non è più correlato con l'anime. Non è assolutamente vero. Ok, non mi metterò a spiegare qua ogni singolo punto perché staremo qua mezz'ora. Sicuramente ci potrò fare un contenuto io più avanti, serio, che spiega effettivamente questi tre punti. Però se ne riparlerà più avanti, ragazzi. Bene, Rens, cosa ne pensi? Io sono totalmente stupefatto dal fatto che non abbia voluto capire effettivamente come funziona il gioco. Nel senso, è partito parlando di cose che non interessavano il gioco. Poi, in tre frasi, ha detto ok, l'anime non c'è, non funziona più. E effettivamente non è così. Perché tanto... Non ho commenti, non saprei neanche perché anche se li vai lì e gli spieghi le cose, gli fai vedere tangibilmente che nel 2014, 15, 16, 17, 18, Yugi era esploso totalmente. Boh, non lo so. La questione è che prima era la colpa dei pendoli, delle carte brutte. E poi dopo adesso è la colpa del fatto che l'anime e le carte non si correlazionano. Cioè, messo in mezzo l'amico suo che conosce la storia giapponese, è un mangaka? Adesso non so, un mangaka, mettiamolo così. Però non tratta Trading Car Game. Cioè, ci fosse stato Automica Wish, aveva molto più senso, mettiamola così. Che almeno i giochi di carta li conosce. Ragazzi, grazie mille per aver visto questo video. Speriamo di aver chiuso definitivamente questa questione perché, veramente, mi sono stufato. Perché se il primo l'ho fatto un po' per me male a questo giro, mi sono veramente... Cioè, no, incazzato. Però mi hanno fatto girare abbastanza i coglioni perché, ovviamente, 20 anni di due... No, c'erano 27, quindi 25 anni di duellante e collaborazioni con Konami. Venimmi a me spiegare le robe. Non la ritengo una cosa molto corretta. Nel senso, vuoi avere ragione su cose dove c'è gente molto più competente di te. Non c'è nessuna guerra. Spero, Dario, che vedrai la reaction e che mi farai sapere. E niente. Un bacione a tutti, ragazzi. E noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti.